C'è ancora tanto tempo a disposizione, il rinvio dei play-off non potrà che fare bene ai biancazzurri. Pescara in campo, lo ricordiamo, giovedì 18 maggio sarà l'esordio nei play-off in trasferta e il ritorno all'Adriatico Giovanni Cornacchia lunedì 22 maggio, in quanto testa di serie, due risultati su tre a disposizione, discreto vantaggio, non sono previsti i tempi supplementari. Si tratta del primo turno della fase nazionale, una sorta di ottavi di finale. L'avversario sarà definito tramite sorteggio. Le altre test di serie, le terze classificate nei gironi A e B, ovvero Lecco e Dentella, il Vicenza, quale vincitrice della Coppa Italia, è la migliore classificata tra le sei vincenti dei play-off di girone. Va ricordato che le cinque test di serie non si sfideranno tra loro. Subito dopo ci saranno i quarti di finale, gare di andata e ritorno 27 e 31 maggio. Quindi semifinali 4 e 8 giugno, le due finali andate e ritorno in programma martedì 13 e domenica 18 giugno. Il Pescara continuerà ad allenarsi al ritmo di una seduta al giorno senza riposo, almeno sino a sabato della prossima settimana. Pizzari sulla via del completo recupero, l'ex Milan rientrerà in gruppo lunedì prossimo, differenziato anche per Mora che dovrebbe reaggregarsi ai compagni a partire da martedì. Domani intanto alle 15, test a capistrello contro la locale formazione militante nel campionato di eccellenza.